Futuro del nuovo ospedale, ombre suddea di secondo livello, il silenzio del sindaco Italia, l'incontro con Gelistro, Movimento 5 Stelle. La rete ospedaliera siciliana risale al febbraio del 2019 quando l'allora assessore della salute, Rogero Razza, firmò il decreto con cui applicava nella nostra isola i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 70, meglio conosciuto come decreto Balduzzi. Ora, a distanza di quasi sei anni, è prevista una rimodulazione di questa rete che, non dimentichiamolo, penalizzava fortemente Siracusa, scippata di un ospedale di secondo livello a favore di Catania, che riuscì ad averne addirittura tre, Cannizzaro, Nuovo Garibaldi e San Marco, mentre Palermo si dovette accontentare di due. Tra poche settimane si arriverà alla resa dei conti, cioè alla definizione nero su bianco, della nuova rete ospedaliera siciliana, che deciderà anche il futuro degli attuali ospedali della provincia di Siracusa, del nuovo ospedale che sorgerà nel nostro capoluogo. In proposito, si sono sprecate le dichiarazioni ottimistiche che affermano come assodata la promozione del nostro comune redusione al secondo livello, ma non si capisce francamente da dove venga fuori tale sicumera. In questi mesi di sanità si è occupato in provincia di Siracusa soprattutto l'osservatore Civio, che ha svolto una funzione di supplenza rispetto ai partiti, molti dei quali assolutamente silenti su questo tema, che dovrebbe invece essere prioritario, come silento quasi il sindaco del capoluogo Francesco Italia. In vista dell'importante appuntamento di dicembre, quando verrà definito anche il livello del nuovo ospedale redusione, l'osservatore Civico, con il presidente Salvo Sorbello e il dirigente Donatello Giudice Maria Nigro, Franco Cirillo e Denzo Bosco, ha voluto incontrare l'onorevole Carlo Gilistro, parlamentare regionale e unico componente siracusana della Commissione dell'Assemblea regionale siciliana, che ha competenze sul sistema sanitario regionale, tutela della salute, igiene e politica sociale, volontariato del terzo settore, previdenza e assistenza sociale. Un incontro dalla valenza molto importante, perché sarà proprio questa Commissione che dovrà esprimere l'ultimo parere sulla proposta di nuova rete ospedaliere siciliana, che subito dopo questo fondamentale adempimento verrà trasmessa ai competenti ministeri romani per l'approvazione definitiva. Con l'onorevole Carlo Gilistro abbiamo avuto l'opportunità di un confronto franco e approfondito su varie tematiche relative alla tutela della salute nella nostra provincia, dichiara il presidente dell'osservatore Civico Salvo Sorbello, e abbiamo trovato un interlocutore attento, competente e disponibile. Abbiamo approfondito in particolare la problematica relativa alla nuova rete ospedaliere e alla necessità che Seracusa abbia al più presto un nuovo ospedale di secondo livello, quindi dotato di tutte quelle specialità mediche che attualmente mancano e che costringono i cittadini della nostra provincia a faticose e costose trasferte lontane da casa. Attendiamo ora che sia convocata la conferenza provinciale dei sindaci, alla quale potranno partecipare anche i vari stakeholder. Ci auguriamo di essere tra le organizzazioni invitate. Nel corso della quale sarà esaminata la proposta della nuova rete ospedaliera siracusana. Infatti, mentre in altre province i sindaci hanno già espresso il loro parere sulla nuova rete ospedaliera, così da far sentire la voce dei territori che rappresentano il presidente della regione, Renato Schifani, all'assessore alla salute Giovanna Volo, a Siracusa ancora non si sta perdendo del tempo, come se i dati della fondazione Gimbe sulla situazione sanitaria non fossero abbastanza preoccupanti.